Se l'export toscano va assegnando una crescita nei primi nove mesi del 2018, quello aretino in controtendenza soffre. La Toscana, infatti la terza regione, dietro solamente a Veneto e Piemonte, per valore assoluto di esportazioni distrettuali in Italia, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di oltre 180 milioni. Tra i distretti ancora in difficoltà ci sono proprio quello della pelletteria e calzature di Arezzo, meno 27,5% per oltre 124 milioni, quello relativo all'oreficeria, che segna invece una flessione del 2,3% pari a 33 milioni di euro. Questi dati del Monitor Distretti, realizzato da Cassa di Risparmi di Firenze, relativo ai primi mesi del 2018. Le esportazioni distrettuali toscane hanno raggiunto un nuovo punto massimo, con un valore pari a 12 miliardi di euro, che passa a 13,7, considerando anche il polo della farmaceutica complessivamente più della metà delle vendite all'estero di prodotti toscani, infatti legata a specializzazioni distrettuali. Nel periodo che va da gennaio a settembre 2018, la crescita regionale è stata dell'1,6% tra i distretti, però che non riescono a replicare i risultati dell'export del 2017, appunto la pelletteria e calzature e oreficeria retina. Tra i mercati, la Svizzera si conferma il primo di destinazione, con 1,8 miliardi di euro più 28,6%, sostenuta dal comparto moda, che utilizza questo mercato invece come polo logistico. Come secondo mercato si conferma la Francia, che mantiene invariato il valore del 2017, mentre risultano in contrazione le esportazioni verso gli Stati Uniti, che risentono in particolare del calo di export del distretto della pelletteria, e delle calzature di Arezzo e dell'olio toscano.